Ciao a tutti, non ho mai parlato sul canale di serie televisive anche se ho dato nella mia vita in termini di spettatore di serie tv perché comunque adesso mi sono un po' disintossicato devo dire, ma visto che il core business del canale continua a essere i fumetti c'è questa miniserie The Penguin ispirata al mondo di Batman che mi ha portato a guardare per curiosità nuovamente una serie tv e volevo dire due parole perché trovo che sia un esempio di serialità televisiva, di miniserialità, perché una miniserie non prevede una seconda stagione ma prevede invece un'intersezione con il cinema come un po' nello stile dei film Marvel che proseguono spesso alcune delle loro sottotrame in determinate serie tv. Questo The Penguin che fin dal titolo chiaramente ci fa capire che al centro della scena c'è uno dei villain più famosi dell'uomo pipistrello cioè il pinguino si ricollega al film The Batman del 2022, film che personalmente non avevo trovato particolarmente riuscito più che altro perché è zavorrato da una durata eccessiva, un film che un'oretta secondo me poteva rimanere sul pavimento della sala di montaggio e con due ore avrebbe potuto dire agevolmente ciò che aveva da dire. La serie è godibilissima anche senza aver visto il film di Matt Reeves che qui è produttore esecutivo, basta tenere presente che nel finale di The Batman l'enigmista praticamente riusciva ad alluvionare tutta Gotham City e da questo trauma così ecologico poi nascono anche alcuni spunti drammaturgici di The Penguin. Allora che cos'ha di interessante questa serie, al di là del fatto che ci propone un villain parzialmente diverso da quello che abbiamo visto dei fumetti, da quello che abbiamo visto nel film di Tim Burton, sicuramente un freak, un personaggio deforme e che per la sua, a causa di una gamba malata, ha un'andatura così claudicante che lo fa soprannominare in modo spregiativo Pinguino. Il suo vero nome è Oswald Cobb, Oz per gli amici, quindi taglia un pochettino il cognome Cobblepot che è quello che invece è del personaggio per tradizione. Oswald Cobb forse è un nome, non so, suona più un nome da gangster, da film noir. In effetti la serie è abbastanza sganciata dal mondo supereroistico, è un racconto di gangster di fatto, con una dinamica anche molto tradizionale, cioè quella dell'ultima ruota del carro che attraverso un meccanismo di complotti, cospirazioni, astuzie riesce ad arrivare ai massimi livelli del potere criminale. Io qui farò degli spoiler, lo dico subito, così se magari qualcuno non ha visto la serie e vuole godersela può vedersi il video e il mio irrinunciabile commento dopo aver visto la serie. La showrunner della serie si chiama Lorraine Lefranc, è naturalmente aiutata da tutta una serie di sceneggiatori, di registi, tra cui spicca Craig Zobel che era anche il regista di Chernobyl, un'altra bella serie HBO e orchestra, dicevamo una narrazione che getta dei ponti col film di Matt Reeves e in particolare mettendo in scena le due grandi famiglie criminali di Gotham, i Falcone e i Maroni, che è un cognome che a noi destra qualche problema di serietà mentre lo sentiamo pronunciare. Io credo che, non so se è perché c'è una, anzi mi sto già pentendo di quello che sto per dire, ma ormai ho iniziato il discorso, non so se è perché c'è una showrunner donna che la serie vive, oltre che della caratterizzazione del suo protagonista, di due grandi figure femminili, però veramente, perché insomma figuri maschili e femminili si possono creare di qualunque sesso si sia naturalmente, però devo dire ci sono due figure veramente magnifiche, veramente magnifiche e interpretate da due grandissime attrici che così salgono alla ribalta televisiva d'amblè, forse anche un po' per mia ignoranza, e cioè Christine Migliotti che interpreta in modo strepitoso la figlia di Carmine Falcone che nel film di Reeves era interpretato da John Turturro, qui invece fa una piccola comparsata con le fattezze di Mark Strong, un gattore britannico, e la Migliotti disegna un personaggio inquietante, un personaggio diviso tra innocenza e ferocia, e questa cosa la capiamo soltanto con il progredire delle puntate e grazie alla scrittura raffinatissima di Lefranchi, io qui cito solo Lefranchi perché è lei a dirigere naturalmente la Writing Room che poi vanta anche altri nomi, però ovviamente non ricordo poi quale nome di sceneggiatore è assegnato alla puntata. Però ecco noi conosciamo Sofia Falcone, la figlia di Carmine, fin dalla prima puntata come un personaggio che ha su di sé un peso, una sorta di, diciamolo pure, di Tara perché viene da Arkham, cioè il manicomio criminale di Gotham che ben conosce chiunque abbia avuto a che fare con la saga di Batman e oltretutto scopriamo, dopo averci presentato questo personaggio, un personaggio così di così volitivo, così... con un'aura così inquietante attorno, quindi un personaggio guardato con sospetto dai suoi stessi familiari e che esordisce con, diciamo così, anche un fardello quasi da tragedia greca perché deve in qualche modo vendicare il fratello, il fratello Alberto Falcone che è l'unico familiare con cui ha saputo nella vita, diciamo, intrecciare un rapporto vero, di amore fraterno, non per colpa sua ma per la per la cattiveria dei familiari che la circondano laddove appunto il fratello è stata l'unica figura in qualche modo salvifica e che l'è stata accanto perché scopriamo che ad Arkham lei è andata per pagare i delitti del padre, ecco, questa la puntata, la quarta puntata dove ci viene raccontato il retroscena dell'episodio più importante della vita di Sofia è veramente un piccolo gioiello, è una puntata assolutamente straordinaria che anche qui ci dà la misura della proprio capacità della raffinatezza interpretativa di Christine Migliotti che riesce a far convivere nel suo personaggio spinte diverse se non contrapposte a cominciare anche da un'iniziale simpatia e calore umano che naturalmente contrasta con il malaffare che la circonda della sua famiglia ma che la vede anche, come dire, offrire dell'affetto a Oth, cioè al pinguino che è il suo autista e che, ma poi qui tornerò tra poco, e dalla quale non sarà assolutamente ripagata. In questo senso il personaggio, se posso fare un paragone illustre, poi sono anche fresco di visione, insomma potrei dire che questo personaggio di Sofia Falcone ricorda un po' il Michael Corleone della saga del padrino che giovanissimo decide di allontanarsi dagli affari criminosi della famiglia salvo poi essere molto più, diciamo, molto più lesto a tornare in seno all'attività criminale del clan perché anche lui in qualche modo segnato da un trauma che poi prelude a un desiderio di vendetta che accomuna entrambi i personaggi. Poi c'è l'altra grande figura femminile, anche qui gestita da un'attrice strepitosa, Deirdre O'Connell, che è la madre del pinguino. Cioè questo personaggio, Francis Cobb, di fatto è all'origine della, direi proprio della, è una sorta di acceleratore della psicopatologia del figlio proprio perché la morbosa, il morboso affetto che fin da bambino, questa cosa ci viene mostrata in alcuni flashback, il Hoth prova per la madre e dovuto anche alla gelosia per i fratelli, gelosia amplificata dal fatto che i suoi fratelli sono, così non hanno la malformazione che invece a lui e che poi lo porterà ad assumere il famoso soprannome. Quindi c'è questo impasto di gelosia, di amore morboso per la madre. Deirdre O'Connell ci mostra una madre del pinguino anziana ormai dipendente dalle cure del figlio ma in uno dei momenti più alti e allo stesso tempo più strazianti della serie questa donna dà fondo a tutto il suo odio per il figlio che ha scoperto essere uno psicopatico e apre a un finale che è di una bellezza pazzesca, cioè l'ultima puntata si chiude veramente con un finale meraviglioso. Lascio per ultimo il protagonista. Ora io ogni tanto mi chiedo ma perché per interpretare un uomo brutto si prende un uomo bello e non si prende semplicemente una persona almeno meno avvenente perché il pinguino è interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell che è sepolto sotto il trucco prostetico del pinguino ma c'è da dire che la sua interpretazione è veramente magistrale e quindi insomma non c'è neanche tanto da lamentarsi però mi è venuto un po' questa obiezione che gli amanti della cultura woke fanno quando dicono ma un gay deve essere interpretato solo da un gay quindi in qualche modo mandando alle ortiche quello che è il senso del lavoro dell'attore che l'attore stesso ama interpretare ciò che è diverso da sé qui però c'è proprio un cambiamento fisico che però ripeto la mia obiezione va un po' anche a farsi friggere perché la performance di Farrell è assolutamente strepitosa e secondo me uno dei come dire delle motivazioni che rendono anche The Penguin in serie e The Penguin personaggio così memorabile è il fatto che noi abbiamo a che fare con un vero cattivo cioè tutto ciò che negli otto episodi ci viene snocciolato le azioni che questo personaggio compie sono le azioni di uno psicopatico non c'è neanche a mio avviso non c'è quella come dire quella parlando di altri villain batmaniani non c'è quella minimo di compassione che possiamo provare per il Joker interpretato da Joaquin Phoenix nel Joker appunto peraltro plagio riconosciuto comunque ci mancherebbe di Taxi Driver e Rapper Una Notte però diciamo che le ragioni di Arthur Fleck Joker sono più comprensibili se proprio vogliamo metterci col bilancino a fare questa sorta di paragone morale il pinguino in realtà è fin da subito uno psicopatico che può sì indurci a un sentimento di pietà per il fatto che abbiamo a che fare dall'inizio con un bambino deforme che si presume trascurato dalla madre e poi con un uomo che cerca di affermare un suo posto nel mondo attraverso lo strumento più sbagliato che è quello del crimine del delitto, della sopraffazione però i valori in campo sono abbastanza diciamo così sono abbastanza chiari lo scontro tra il pinguino e tra Sara Falcone è lo scontro comunque tra due persone malate ecco tra due persone malate e nel paragone forse è Sofia Falcone ad essere come dire più comprensibile perché diciamo nasce da una da un da un retroterra morale che seppur inquinato dalla sua famiglia non lo è nella nella sua così intimità di persona c'è una c'è un altro personaggio che adesso mi guardo un attimo il nome dell'attore ecco Renzi non è tanto difficile però dovuto vedere insomma che interpreta la parte di un uno dei potremmo definirli degli orfani di Gotham dopo l'alluvione, l'inondazione causata dall'enigmista e che è un così un adolescente che vive per strada e che viene preso sotto l'ala protettrice del pinguino e tra i due si stabilisce in qualche modo un rapporto che abbiamo visto molte volte al cinema io ho anche un titolo in mente cioè Doc di Frank Perry il western ribaltato sulla sfida all'Hockey Corral dove erano gli erpi cattivi e in quel film succedeva una cosa molto significativa cioè il rapporto tra il giovane che era interpretato da Denver Collins il nome dell'attore e ovviamente Stacy Keach interpretava Doc Holliday culminava nell'uccisione da parte di Doc di questo ragazzo uccisione immotivata agli occhi esterni della gente uccisione motivata da parte di Doc perché in qualche modo uccideva se stesso e in qualche modo uccideva anche la possibilità di provare affetto per qualcun altro esponendosi al rischio che avere un affetto comporta la stessa cosa l'ho detto che avrei fatto degli spoiler succede tra il pinguino e Vic nell'ultimo episodio della serie e ho trovato molto coraggioso questo finale perché ci ribadisce fino all'ultimo che noi per tutti gli otto episodi abbiamo veramente fatto il tifo per un vero cattivo per un personaggio disturbato che ha perso la bussola morale quello che ho detto finora fa pensare ma in effetti è così anche a un realismo della serie che io anche semplicemente vedendo il trailer mesi fa mi erano venuti in mente i Soprano pensate un po' ovviamente i Soprano sta nell'Olimpo della serialità non andiamo a disturbarlo però non è sbagliato insomma l'ultima immagine che vediamo di questa The Penguin è il bat segnale che solca il cielo di Gotham ma è anche l'unica concessione al mondo supereroistico perché fino allora veramente abbiamo avuto a che fare con una storia un gangster movie come può essere Nemico pubblico numero uno Scarface o Il padrino e a quanto pare questa serie farà da ponte per il secondo film di Matt Reeves che io spero duri un pochino meno perché insomma erano veramente sfiancanti quelle tre ore e si riafferma una cosa cioè che il mondo di Batman è nel panorama supereroistico quello più duttile cioè Batman è veramente un personaggio molto duttile capace di essere reinventato di farsi reinventare continuamente e questa reinvenzione va avanti ormai da tantissimi anni quasi da 40 anni direi e dal Cavaliero Oscuro di Frank Miller ma forse anche da prima e in modo assolutamente transmediale perché così fumetto e cinema soprattutto si continuano comunque a influenzarsi tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata